articolo pubblicato su grace a gennaio del 2015 titolo la belva mai esistita passione sogno o follia se è inutile cercare di capire cosa spinga a investire tempo e denaro per realizzare una replica figuriamoci quanto difficile sia capire un appassionato che dedica quattro anni per realizzare una pettura mai esistita già perché franco fiamberti questo è il nome dell'appassionato protagonista di questa storia sapeva bene cosa voleva realizzare il sogno o la follia era di costruire il gruppo 4 dell'x19 abart stradale in abart ad inizio anni 70 sono stati realizzati cinque esemplari di x19 prototipo quattro di essi hanno regolamento corso nelle competizioni con i motori di 1756 cc e di 1839 cc ma solo il quinto e l'ultimo realizzato telaio 23000 04 ha montato il 1995 cc di lampredi questo esemplare è da tutti definito stradale da qui l'idea di realizzare la vettura competizione di quell'unico esemplare vettura che con buona probabilità avrebbe potuto competere con ottimi risultati nei rally ma che per ragioni di marketing viene abbandonata per lasciar posto alla fiat 131 abart l'esperienza maturata in 20 anni di attività nel campo del motosport internazionale ha portato franco fiamberti a studiare personalmente alcune soluzioni tecniche l'auto presentata in queste pagine è stata da lui realizzata presso la carrozzeria auto elegant di ghisalva bergamo di cui è titolare come è nato il progetto dopo aver costruito per anni alcuni telai per correre negli slalom fiamberti materializza sempre più l'idea di utilizzare in corsa una vettura anni 70 particolare quasi unica abbandonato il sogno di una angiastratos si lancia alla ricerca di una fiat x19 oltre alle condizioni della scocca la cosa più importante era che la targa posteriore fosse quadrata come i cinque esemplari costruiti dall'abart fortuna vuole che si imbatte in un x19 di inizio 1973 con la targa quadrata ferma da 15 anni al coperto relativamente sana numero di telaio 900 era il 2010 e senza saperlo a fiamberti stava iniziando un lavoro che avrebbe visto impegnato per quattro lunghi anni dopo averla smontata integralmente aver portato a nudo la carrozzeria liberato il vano motore posteriore e iniziati i lavori di montaggio del kit di vettoresina i codolini non sono rivettati ma sono integrati nella carrozzeria come sulla fiat 131 abart inizia una lunga fase di analisi per decidere la meccanica da adottare il prototipo stradale realizzato in abart montava il bialbero lampredi di 1995 cc con la testa otto valvole e con un carburatore doppio corpo per preparare la sua exon 9 replica fiamberti si trova costretto a comprare anche una fiat 130 abart per utilizzarne il motore del cambio ovviamente la meccanica viene tutta smontata ed il motore preparato vengono inoltre montati due carburatori orizzontali doppio corpo weber idf per il cambio non si seguono le specifiche della fish fia gruppo 4 al tempo compilata ma mai registrata presso la fia ma si cerca di sfruttare il know how acquisito fiamberti realizza così un suo cambio di velocità partendo da uno zf a 5 rapporti il differenziale autobloccante a dischi è di derivazione alfa romeo ed è tarato al 50 per cento la geometria delle sospensioni di tre pezzi sono quelli dell'ixone 9 originale ma ovviamente le sospensioni sono regolabile e tutti i braccietti sono stati rinforzati pensando ad un utilizzo più corsaiolo della vettura l'impianto frenante è servo assistito con pompa singola dischi autoventilati all'anteriore e dischi posteriore in aggiunta è stato montato un freno a mano idraulico per bilanciare il peso come nelle abart prototipo ufficiali il serbatoio della benzina è montato nel vanno bagagli anteriore la capacità è di 30 litri i cerchi da 15 pollici i vetri originali le porte in la mira con le maniglie i pannelli porta e fare interiore supporto superiori incassati completano la preparazione ad inizio del 2014 fiamberti ad un passo dal terminare la sua opera ma è di fronte alla scelta più difficile quale livrea dare alla vettura per poco che possa sembrare in realtà questa scelta è forse la più importante perché il colore e la livrea di una vettura rappresentano l'immagine che si vuole dare alla propria creatura molte volte nelle repliche si riutilizzano le livree esistenti pensiamo alle lancia martini alle alpine renault calberson alle porsche rotmans ma quando si realizza una replica come in questo caso si deve dare un valore storico a quello che si è inventato l'esemplare che fiamberti ha realizzato in questi quattro anni all'epoca non è mai stato sviluppato perché come detto dal 76 la vettura prescelta per le competizioni in italia è stata la fiat 131 in quell'anno gli sponsor ufficiali dei due team reparto corse fiat e hf squadra corse lancia erano rispettivamente olio fiat per la 131 e all'italia per la status la scelta quindi non poteva che ricadere su una delle due sponsorizzazioni disponibili e fiamberti ha optato per la splendida colorazione all'italia la stessa che dal 1978 ha vestito la 131 certo che a vedere questa livrea su questa vettura la sensazione è molto forte ben presto viene un po di tristezza perché la nostra mente realizza che l'automobilismo sportivo si è perso una vettura splendida aggressiva compatta competitiva equilibrata e facile da pilotare insomma una bella promessa mancata la fortuna però questa volta è dalla nostra parte grazie a franco fiamberti e al club x19 italia che l'ha dotata come simbolo abbiamo la possibilità di vivere questa esperienza seppure con un po di nostalgia giusto in tempo per festeggiare il quarantesimo anniversario del modello x19 abat grazie signor fiamberti